ma soprattutto in questo momento io allo stesso presidente ricordo che quando uno di noi va da Franceschini cara con un milione di euro per la riqualificazione del centro storico e non se fine di opere pubbliche che sono ferme d'anni a Ferragosto bastano 4 docce d'acqua per affrontare la stagione locale come possiamo fare e per evitare di pagare ancora di più per dare una riforma del settore per far sì che i cittadini possano essere di nuovo vicini per fare un vanno per il governo abbiamo bisogno di quella domanda in quale scrivere siete perché deve avere la possibilità di poter intervenire i democratici parte però da uno studio che i giovani possono vivere più da vicino la vita politica e la vita a 10 ore in me a 10 ore in me grazie a tutti grazie a tutti